L'occupazione è in crescita e c'è fermento nel mercato immobiliare. In altre parole, l'industria logistica conviene ai territori dove si insedia. Così emerge dallo studio di Nomisma, presentato durante il convegno le sfide della logistica allo spazio rotativo del gruppo Libertà. I dati mettono a confronto le zone più prossime al polo di Amazon di Castel San Giovanni con quelle più distanti, ponendo il focus sul numero di lavoratori, sulle imprese e sul mercato immobiliare. C'è stato un grosso aumento degli addetti, quindi degli occupati nel territorio prossimo al polo, del 25% dal 2016 al 2022, mentre nelle zone più distanti dal polo questo aumento è stato del 9%. Prendendo inoltre in considerazione i bilanci di oltre 8.000 imprese operanti in 68 comuni nelle vicinanze del centro di distribuzione Amazon nel periodo 2014-2022, emerge che le aziende più vicine abbiano registrato un incremento del giro di affari del 76%. All'inizio di quest'anno gli assunti a tempo indeterminato del polo logistico di Amazon erano oltre 1.600. Il 46% è straniero. Noi abbiamo fatto uno studio che non entra nel merito delle condizioni di lavoro. È naturale che questi fenomeni vadano governati, ma non vadano demonizzati, perché portano una ricchezza evidente al territorio che trova la sua vocazione anche nella logistica. Per quanto riguarda l'attività immobiliare, anche in questo caso i dati sono più attraenti nell'area prossima al polo logistico. Il numero di compravendite, cioè la vivacità delle politiche abitative e delle compravendite sia a livello residenziale che a livello industriale, sono state particolarmente più elevate all'interno del vaccino gravitazionale del polo Amazon rispetto a quello che avviene più lontano da questo polo.